Il giudice Falcone ha dichiarato che è notorio che l'onorevole Salvo Lima utilizzava la macchina e gli esattori salvo di Salemi. Ho letto questo e credo che possa essere confermato dal giudice Falcone. Certamente, e allora? Salvo Lima è parlamentare europeo e gli esattori salvo di Salemi sono potenti come non mai. Ma perché lo addebiti al giudice Falcone? No, 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 come prova dei rapporti che esistono tra gli esattori salvo di Salemi e un parlamentare come Salvo Lima. Perché c'era bisogno che lo dicessi io perché si sapesse del rapporto tra i salvo e i lima. E' benissimo, l'ulteriore conferma, l'ulteriore conferma. Voglio dire qui pubblicamente a Giovanni Falcone che secondo me farebbe bene ad andarsene al più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché mi pare che l'aria non gli fa bene, non gli fa bene proprio. Questa è una tua opinione soggettiva? Sì, sì, è un'opinione mia. E questo significa mancanza di senso dello Stato? No, no, questo a me pare invece in realtà senso della indipendenza e dell'autonomia della magistratura, perché i politici e i governi... Il posto che io ricopro è un posto previsto per magistrati, non c'entra niente con l'autonomia, l'indipendenza e la magistratura. Ci si va sempre col gradimento del ministro. Ma questo forse vale per te, scusate. No, perché io non ci sono mai andato. Ma forse questi sono i tuoi problemi, certamente non sono i miei. Non ci sono mai andato, quindi non sono i miei problemi, perché non sono stato al Ministero di Grazie e Giustizia. E dunque rispetto ad una cosa di questo genere, io credo che sarebbe bene ripensarci, ma non solo per Giovanni Falcone, ma per tutti i giudici che hanno incarichi ministeriali di un certo rilievo. Il Ministero di Grazie e Giustizia ci sono posti che sono espressamente previsti per magistrati. Come fate ancora a sostenere queste cose che non stanno né in cielo né in terra? Ma te poco fa hai risposto ad un tizio, dice la sua opinione. Questa è la mia opinione, che voglio esprimere pubblicamente. Non capisco perché ti arrabbi. Non c'è ragione di arrabbiare. Perché mi meraviglio che un giurista come te lo faccia, sostenga queste cose. In qualsiasi paese al mondo c'è un Ministero di Grazie e Giustizia. In qualsiasi paese al mondo sono magistrati che stanno al Ministero. Questo non è affatto vero. E in cui i governanti non danno niente. Tu confondi indipendenza con irresponsabilità. Tu confondi indipendenza con arbitrio. No, no, l'indipendenza per me è un fatto molto concreto, di non dover rispondere a nessuno, né prima, né durante, né dopo. E questo è il guai. Chi è indipendente deve sempre rispondere. No, i magistrati no. Ah no? Non sentirai che i magistrati rispondano. Come no? Ma come? C'è una bellissima legge sulla responsabilità civile. I magistrati rispondono al popolo in nome del quale amministrano giustizia. Questo è il punto. E per questo c'è un organo sovrano come il Consiglio Superiore della Magistratura che in nome del popolo deve garantire questa indipendenza e quanto c'è. E comunque Giovanni, non mi piace che stai dentro il palazzo di governo. Non mi piace. Allora. Allora. Grazie a tutti